Io ho un appello da fare, stiamo cercando disperatamente... The New Stories La tua informazione libera La gioia della vittoria al Festival di Sanremo ha avuto per Angelina Mango un piccolo contrattempo. La custodia rossa del primo premio è andata persa durante i festeggiamenti del sabato notte. La cantante, in un misto di disappunto e spirito giocoso, si è rivolta ai suoi fan e alla comunità online con un appello su Instagram per ritrovare la scatola destinata a contenere il leone rampante d'oro, simbolo del prestigioso riconoscimento. Angelina Mango, con una spontaneità che la caratterizza, ha condiviso un video in cui mostra il premio conservato provvisoriamente in una busta di cartone. La custodia del premio del Festival di Sanremo, qualcuno ce l'avrà. Io vado in giro così, ragazzi, non è fattibile. Nonostante il piccolo inconveniente, il cuore della vincitrice di Sanremo è colmo di felicità e gratitudine per il supporto ricevuto. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella. Per noi è importante. Resta sempre aggiornato. Grazie per la visione.